Allora, lo dicevamo prima, il Premier Conte è intervenuto anche sulla TAV, allora è pronto il servizio del collega Mario De Pizzo, vediamo. Sulla TAV venerdì l'Europa attende una risposta dall'Italia. Rappresento due forze politiche che sul tema hanno una visione opposta, dice il Premier Conte. Solo il Parlamento potrebbe decidere di bloccare l'opera. Che se volessimo bloccare l'opera e, se fosse possibile, intraprendere la via di un progetto alternativo, non lo potremmo fare condividendo questo percorso con la Francia. La TAV, al culmine di un passaggio cruciale della legislatura, domani l'informativa in Senato sul caso Russia. Il Premier ribadirà la collocazione internazionale dell'Italia e il valore dell'Alleanza Atlantica. Sullo sfondo, il confronto sull'autonomia. La bussola per Palazzo Chigi è una riforma strutturata, sostenibile sul piano costituzionale e che realizzi le attese dei cittadini. Non c'è ancora un accordo con i governatori leghisti. Giovedì, il primo atto di Palazzo Chigi sulla manovra. Confronto con le parti sociali, su Fisco, su del lavoro. La legge di bilancio andrà discussa poi con l'Europa e all'Unione Conte invia un messaggio chiaro sui migranti. L'Italia insoddisfatta serve un'Europa più solidale ed invita gli altri paesi, Francia e Germania su tutti, ad uno sforzo ulteriore. Condividere la responsabilità degli sbarchi, sostenendo la proposta italiana alla quale Conte lavora da tempo con i ministri Moavero e Salvini.